Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Proseguono i lavori serali di rinnovo integrale dei binari sulla metro A. Per lasciare spazio ai lavori, dalla domenica al giovedì, l'ultima corsa dei treni della linea A è alle ore 21, poi il servizio prosegue su bus. Il venerdì e il sabato i lavori sono sospesi e la metro A resta aperta, come le altre linee metro, sino all'1.30 di notte. Da ricordare inoltre che per la manutenzione delle scale mobili, sino a domenica 30 giugno, è chiusa la stazione di Vittorio Emanuele. In alternativa si può utilizzare la vicina fermata di Manzoni.